Area pedonale ma con segnalettica da strada regolarmente aperta al traffico. Sulla viabilità nell'area di piazza Cairoli le idee di Palazzo Zanca sembrano essere ancora una volta poche ed anche piuttosto confuse. Il comune nei giorni scorsi ha installato nuovi cartelli e finalmente dissuasori che sostituiranno gli sparti traffico New Jersey, interventi che hanno fatto percepire la presenza dell'amministrazione comunale dopo un lungo periodo di abbandono, ma l'isola ha la messinese invece di fioriere e arredi alle strisce pedonali ed uno stop per regolare un traffico di vetture che non dovrebbe esserci. La questione è tecnica, spiega il dirigente alla mobilità urbana del comune di Messina Mario Pizzino. Ci sono dei mezzi che comunque entreranno nell'area pedonale di piazza Cairoli e sono quelli che riforniranno i negozi, i mezzi d'emergenza, i taxi. Se si mettono nell'isola il loro transito deve essere comunque disciplinato secondo quanto previsto dal codice della strada. Questa dunque è la spiegazione dal comune, ma comunque anche queste soluzioni per piazza Cairoli potrebbero essere provvisorie. Palazzo Zanca riceverà infatti il 4 aprile le buste per la gara mirata ad individuare uno studio ingegneristico che dovrebbe incaricarsi di migliorare la viabilità cittadina, individuando anche soluzioni per le isole pedonali. L'iter burocratico dovrebbe concludersi tra maggio e giugno con la nomina del soggetto vincitore che potrebbe ancora una volta rivedere tutto e cercare nuove soluzioni.